Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il giorno della nostra morte, ame. E il ricavamento degli sforzi comuni con l'aiuto della Madonnina. Ma sai, io sono nato a Vukor, in Croazia, praticamente fa parte dell'ex Jugoslavio come qua dove siamo adesso. Non ho avuto mai fortuna di venire qua, prima perché ero troppo piccolo, secondo dopo quando volevo venire c'era la guerra, terzo sono venuto adesso. Però come si dice in Italia, meglio tardi che mai. Sicuramente per me è una bellissima esperienza. Anche vedendo questi bambini qua che comunque sono orfani in tutto, come ci sono in altra parte anche in Serbia. E purtroppo i risultati della guerra sono questi qua. Quello che mi ha colpito, quando siamo andati a parlare là con la leggente Miriana, io mi reputo una persona dura, no? Difficile che piango, no? Però là ho pianto 4-5 volte, ma non so perché. Mi veniva così naturale e non lo so neanche io perché mi uscivano lacrime, non lo so. E quando sono uscito mi sono sentito tutto libero, non lo so, è una sensazione strana. Tu sei una persona che prega, oggi dicevano tutti che bisogna pregare. No, sai qua, io prego quando ho bisogno e non va bene.